E' un cortometraggio del regista Riccardo Riande e praticamente i personaggi sono dei personaggi molto particolari. Io interpreto la morte, Marius Bizzau interpreta il diavolo e Leonardo Santini una sorta di preda dei giochi e delle scommesse di questi personaggi molto particolari che vengono presentati come se quello che fanno fosse una sorta di lavoro normale, di routine per sfuggire alla quale loro organizzano degli scherzi non particolarmente simpatici agli esseri umani. Ho fatto cinema, ho fatto cortometraggi, ecco forse una cosa web non l'avevo mai fatta però ecco la professionalità è sempre la stessa sia che si faccia una cosa per il web sia che si faccia una cosa per la televisione o per il cinema. Noi insomma eravamo una piccola produzione ma tutta composta da professionisti.